ciao a tutti i guardiani io sono gif g adesso voglio andare a vedere cosa consiste violazione quindi non ho ancora provato facciamo insieme proviamo insieme la prima volta sono i campioni allora questo ce l'ho già i sovraccarichi aspetta un attimo vediamo subito se ho già a disposizione dovrei e dovrei vediamo se qua no punti non ne ho però vabbè qualcuno c'è potrei usare questo ok vediamo se l'ho già messo o no difatti mettiamo i cannoni allora ok e cosa gli metto questo anche se mi butta giù un po forse ecco di fatti il potere vabbè non importa andiamo no andiamo a provare eccolo qua andiamo a provare violazione europa vediamo in cosa consiste so che serve il guanto per aprire il tesoro quelle cose lì l'ho già caricato e quindi vediamo cerco di tenermi sempre un po all'oscuro così che ci sia anche un po di sorpresa visto che sono ormai anni che lo gioco sto gioco se non faccio così se vado a vedere anche i gameplay e qualcos'altro poi boh non ci gioco più a sto punto bella mi piace comunque ragazzi è partita veramente bene questa stagione sono all'inizio per adesso vi sto facendo vedere quello che faccio ogni volta tranne vabbè ho fatto degli assalti appunto per caricare il guanto però voglio capire che cos'è non so se bisognerà avere accesso cioè bisogna avere il pass stagionale per poi avere accesso dopo questo però vabbè tanto all'inizio trova sempre provare quindi vediamo poi magari lo prendo anche vediamo vediamo perché ho anche altri titoli quindi non posso dedicarmi solo a questo proprio per mia natura non posso giocare a un gioco solo ok si è qualche casino vediamo già iniziato tra l'altro così io non vedo neanche l'inizio non fare questa pallina ok ok mettere l'inizio ok 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 speriamo di porre fine a questa minaccia prima che l'axmi fomenti disordini in tutta la città gli ultimi rapporti gli abitanti dell'ultima città anche tu ricorri a vili sotterfuggi un buon lidere usa tutti gli strumenti a propria disposizione per prevenire eventuali pericoli me l'hai insegnato tu no e non ho avuto il tempo anche di vederlo però ho capito più o meno bisogna uccidere alcuni elementi portare quello e probabilmente poi esce il boss credo che sia così adesso devo andare da ikora speriamo ma speriamo che lo farà ripetere beh andiamoci allora che peccato io mi ero preparato alla fine non è servito a niente ha fatto iniziare la partita iniziata va bene allora andiamo subito da ikora vediamo che succede si ah nel frattempo fammi vedere se ho accesso ancora no è sparito vabbè dai me l'ha fatto vedere così grazie grazie grazie